Sono lamentati i giocatori biancoleri per un controllo viziato anche da un braccio, si gioca Danilo con il campone Romagnoli, il rompefagioni che offre a quadrato, Locatelli, ottimo cambio per Kostic al volo, ma c'erano solo maglie bianche in particolar modo quella di Kataldi, Milinkovic si deve liberare. Prima di Rappio, poi anche di Locatelli, ma con la solida eleganza, provvedendo, Milinkovic, Kataldi, Fagioli, Ken può puntare, si fa tomano da Kataldi. Ancora una volta l'impressione che apprezzo al pubblico perché vede una Juve vogliosa.